e sono felice perché erano anni che cercavo qualcosa ma non sapevo che cosa veramente per usufruire di più della mia mente perché secondo me mi stava addormentando e quando la mia amica me ne ha parlato mi sono sentita subito entusiasta di questa cosa ieri quando sono andata in panico con le mappe sono andata proprio in panico ma poi sono riuscita a farla e per me è stata una conquista la prossima volta che di fronte a qualsiasi cosa andrà in panico ricordati che questa volta ce l'hai fatta e ce la farai ancora usala come ancoraggio è questione proprio di tung poi è bello perché il corso è un ottovolante ci sono i momenti in cui la persona va giù dice oddio adesso poi quando ce la fa si rilassa grazie Alessandra grazie a te grazie di cuore